eccoci qua belli siete ragazzi buonasera 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 a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico necce nella casa del pane balù tutti quanti si aspettavano galtieri dal paese san germain luise enrique e non sa chi scegliere forse italiano poi italiano non se ne fa più niente ma chi è che gliele dà le informazioni le avevano nominati tutti lui di garcia mi sa che non l'aveva detto nessuno pronti è arrivato il comunicato ufficiale di di aurelio de laurentis che comunica il nuovo allenatore del napoli sarà rudy garcia ex allenatore della roma in questo momento era fermo all'ultima squadra che aveva allenato al nasi riali dove dove era ronaldo poi dopo diciamo si è si è conclusa con la risoluzione consensuale del contratto e arriva da e ritorna ad allenare in serie a insomma ricordate lui di garcia aveva allenato la roma perciò un un allenatore che predilige poi soprattutto il 4 3 3 perciò per dare continuità al gioco del napoli al giuoco del napoli dai ragazzi impariamo a dire il giuoco a giusto per non dimenticarci il grande silvio al gioco del napoli e bene 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 c'è la c'è il il tutterino di aurelio de laurentis poi ci sarà l'ufficialità però è più ufficiale di questo una volta che lo dice il presidente che fa questa uscita un po questa questa giocata la zidane come la chiamo io così all'improvviso spiazza tutti e dalla notizia ragazzi parliamone parliamone un po vediamo un po che profilo questo allenatore prima di cominciare mi invito subito ad iscrivervi al canale ragazzi mi raccomando fatelo importante gratuito non costa nulla e aiuta molto a far crescere il canale perciò l'iscrizione attivazione della campanella per non perdersi per non perdervi mai nessun mio contenuto un bel laicettino e magari ragazzi perché no a sto giro fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi soprattutto voi amici napoletane di questo allenatore perché a me non dispiace devo essersi adesso ne parliamo ma non dispiace poi comunque dobbiamo tornare poi al discorso fatto oggi coi giocatori che se ne vanno chi resta insomma ne parliamo ne parliamo perciò nei commenti fatemelo sapere seguitemi su instagram sul gruppo telegram lo sapete già nella descrizione di questo video ci sono i vari link venite a trovarmi anche di lì che ci facciamo quattro risale dai ragazzi allora twitterino twitterino del del presidente aurelio de laurentis che ve lo leggo così de getto eccoci qua ho il piacere di annunciare che dopo avendolo conosciuto frequentato durante gli ultimi dieci giorni signori rudy garcia sarà il nuovo allenatore del napola lui il più sincero benvenuto è un grande in bocca al lupo addirittura anche dieci giorni che ci aveva che fa nessuno se n'era accorto va bene ragazzi il profilo il profilo di quest'allenatore ma non è male insomma innanzitutto lui usa un modulo 4 3 3 che è comunque il modulo che 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 sostanzialmente usava il napoli quest'anno con spalletti no poi sappiamo i moduli sono sono come si dice lasciano un po il tempo che trova nel senso poi la squadra si deve adattare anche in base ad altre circostanze ad altri moduli no sono solo numeri però già se la squadra è impostata con 4 3 3 e tu gli dai continuità sto prendendo un allenatore che fa lo stesso gioco è già un una cosa positiva no poi certo ripeto uno deve essere abbastanza camaleuntico cercare di fare altri moduli detto questo quello che dico io è che io me lo ricordo alla roma sinceramente alla roma poi non aveva poi fatto così male poi se non sbaglio è andato via un po malamente esonerato però quella roma in quel periodo non dico che ci hanno tanti problemi però c'era totti ragazzi e quando ci sono dei giocatori di quella caratura lì è sempre difficile allenare quelle squadre al di là adesso non mi ricordo se aveva avuto problemi con totti no ma magari non li ha neanche avuti però insomma quando ci sono quei quei nomi lì per un allenatore oltretutto allora anche semi sconosciuto oggi già oggi lo si conosce un po di più ma non è che è un allenatore di dire diciamo che ha vinto chissà cosa no però è un po più conosciuto ha già allenato la roma in francia ha girato un po di squadre insomma già lo si conosce più allora era novello insomma andare allenare una squadra dove c'è un mostro come sacro come come totti difficile perciò se non sbaglio allora si lasciò malamente però aveva fatto due belle stagioni mi ricordo che per certi versi giocava anche un bel calcio devo essere sincero detto questo con la cosa più importante ragazzi e lo dicevo oggi è che il napoli non deve assolutissimamente perdere i suoi pezzi pregiati adesso è uscita fuori la notizia di kim che vuole andare ha chiesto la di poter andare via dopo solo un anno e la cosa mi sembra anche un po strana no e ora sì ci sono le sirene del bayern di monaco poi vedremo come andrà a finire però io dico tu sei arrivato sei in una squadra come napoli non è che sei in una squadretta che ha vinto per caso è una squadra è vero una squadra che era tanto che non vinceva però ha vinto convinto e stravinto questo campionato la squadra è ancora intatta ti cambiano l'allenatore sì però insomma ce n'è un altro che c'ha una c'ha più o meno la stessa impronta e comunque sa di fatto che tu hai la possibilità di fare un altro campionato perché avendo vinto questo campionato in questa maniera così netta nessuno ti toglie la possibilità di farlo l'anno prossimo di giocarti ancora la champions league insomma il gruppo c'è è affiatato non è nato tutto per caso il napoli oggi come oggi che poi una società anche sana coi conti ricordiamolo il napoli è sana coi conti perciò può anche fare un mercato e aggiustare non aggiustare aggiungere un paio di pedine magari non da 100 milioni l'una e sistemare magari quei cambi che a volte non perché il napoli era molto forte nei primi 11 e ci aveva due tre cambi molto forti cioè politano lozzano bene o male si alternavano perciò quel cambio lì era era ottimo elmas è un buon jolly che può stare a sinistra può stare a destra può stare in mezzo ha fatto anche l'attaccante al mass al fatto qualsiasi cosa perciò è un buon è un buon giocatore e poi c'era il il terzino sinistro al posto di mario rui ora mi sfugge il nome ragazzi aiutatemi voi va bene lui che comunque quando dava entrava da verso contributo ecco il napoli si riesce ad aggiustare un paio di situazioni c'è una magari un paio di cambi e può dire la sua e questo allenatore è un allenatore che insomma si vuole rimettere in gioco dopo un anno sabbatico dopo aver allenato un po di squadre in nella ligand se non sbaglio si si prima di andare al nas seria alla al nas al nasar di quello di cristiano ronaldo aveva fatto un bel po di giretti dove da dove arriva guardiamo lille marsiglia lione insomma non una squadrettina lille marsiglia lione sono due delle squadre in francia le mans delle squadre in francia che non sono il pari san germain però il pari san germain è una cosa a parte e sono quelle squadre che arrivano subito dopo perciò tolta il pari san germain sono quelle squadre che si giocano il secondo il terzo il quarto posto anzi lille se non sbaglio l'anno scorso due anni fa ha vinto il campionato quando c'era quando c'era appunto megnano in porta perciò è un allenatore che ha fatto la sua gavetta che ha fatto la sua esperienza che sa il fatto suo che conosce la lingua italiana il campionato italiano soprattutto avendo allenato per due anni e mezzo è vero manca da un po di anni però comunque è stato nel 2013 2016 manca da un bel po di anni una decina e non ha decine 10 anni fa arrivato 8 anni però comunque un allenatore che lo conosce il campionato italiano non è che è un novello perché galtier per l'amor di dio quello lì del pari san germain bravo sì adesso io non lo conosco sinceramente però allena il pari san germain può anche essere bravo però è un allenatore che in italia non ha mai allenato l'italia per quanto ne dicano in giro campionato scarso è calato non è più quello di una giocare e allenare in italia è un altro sport ragazzi qui si gioca un altro calcio è diverso da quello lì lì sarà più spettacolare da un'altra parte sarà più sarà più 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 potente a livello economico qui si gioca un altro sport insomma non è semplice perciò arrivare iniziare con un allenatore che comunque lo conosce il campionato italiano conosce anche la lingua si riesce a esprime perché parla bene l'italiano me lo ricordo è un passo avanti poi certo ripeto tutto dipenderà da come rimarrà la squadra se la squadra rimarrà questa non sarà non sarà venduto nessuno magari solo una cessione però rimane quelle impronta la ne possiamo vedere delle belle anche l'anno prossimo anche con garcia perché secondo me può fare veramente veramente bene o ragazzi il nuovo allenatore il napoli per il momento l'avevo ottenuto perciò si stava parlando napoli vediamo chi rimane chi non rimane per il momento è andato via solo allenatore già ne hanno trovato un altro i giocatori sono ancora quelli vedremo perché qua mi sa tanto che il napoli dicono che si smantellerà tutto quanto perché il presidente vende un po' insomma era un po' come quelle dicerie che a gennaio doveva calare vediamo che magari va a finire che si inizia il campionato ci saranno tutti ed è cambiato solo l'allenatore vedremo vedremo dai ragazzi vi auguro una buona serata a tutti quanti ci vediamo più tardi perché vado a vedere il secondo tempo dell'italia mamma mia che che squadraccia e dai a dopo ragazzi belli siete un bel like fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di garcia ciao